Secondo una recente indagine di oggi, Wilma Geick ha guadagnato ben 145.000 euro per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip. La cantante è stata una delle geffine più pagate, con un compenso di 8.000 euro a puntata. Tuttavia, ora, Mediaset e la produzione del reality show hanno dovuto ripiegare su nuovi concorrenti, meno famosi, poiché il budget si è prosciugato. Tra questi ci sono Nicole Murgia, Davide Donadei e Andrea Maestrelli. Alfonso Signorini ha voluto creare un mix, tra famosi e non famosi, come accadeva nel Grande Fratello Nip. Presto arriveranno altri concorrenti, Matteo Diamante, ex fidanzato di Nikita Pelizzon, ed ex naufrago dell'Isola dei Famosi. Gianluca Benincasa, ex amore di Antonella Fiordelisi. E Martina Nasoni, ex vincitrice del GF Nip, ed ex fiamma di Daniele Dal Moro. Tornando al compenso di Wilma. Vi sembra una cifra esagerata?